Sono Francesco Canio, il presidente del gruppo storico Le Cor d'Eral di Fénis. Nato nel 2001, questo gruppo è cresciuto negli anni, fino ad arrivare alla sua tredicesima edizione con una manifestazione medievale, chiamata appunto Tredicesima Festa Medievale, il torneo Le Cor d'Eral, che si terrà ai piedi del magnifico castello di Fénis, in località Sant'Edebuva. Ai piedi del magnifico castello di Fénis, il giorno 27 luglio, si svolgerà questa festa medievale. Un'area verde bellissima, dove si possono ricostruire campi d'armi, campi di battaglia, dove ci potrà essere lo sviluppo di un torneo equestre, tiro con l'arco e quant'altro. In questa festa saranno presenti circa 300 personaggi in costume che arrivano da tutto il nord Italia. Alla fine della giornata non può mancare una cena con delle ricette antiche studiate e ricercate di proposito proprio per questo avvenimento. La giornata si concluderà con una fiaccolata che riporterà gli ospiti al castello e i giochi di fuoco. In conclusione invito tutti voi a partecipare numerosi a questa bellissima festa medievale che ricordo è la tredicesima e si svolgerà ai piedi del castello di Fénis il 27 luglio 2024. Grazie. 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 Grazie.